Cari amici, tra i termini di questa sera siamo al punto 52, alla presentazione del libro di Pietro Piro dal titolo Desiderio di Volti, scritti d'occasione, ve lo possiamo mostrare, un libro che ha una prefazione molto interessante. Innanzitutto sono dei scritti, delle storie, come possiamo chiamarli, dei brevi occasioni di incontro. L'occasione di incontro è una prefazione che parla della parola, una parola primordiana, una parola rinnovata, una parola d'amore, così si conclude la prefazione. Desiderio di Volti è un testo che raccoglie dei saggi che sono maturati nell'ultimo anno e che sono tutti derivati da incontri che ho fatto con scuole, con giovani soprattutto. Io ho voluto raccogliere questi saggi in questo volume che affronta vari temi. Uno dei temi principali è appunto il tema dell'impegno civile. Uno dei temi che affronto in questo libro è anche la possibilità di immaginare il futuro in maniera diversa da quello che conosciamo oggi. Un futuro più rispettoso dell'uomo, dei suoi bisogni, delle sue necessità più intime. E quindi uno degli aspetti più importanti della vita dell'uomo è certamente la comunicazione, la parola, l'incontro. E la parola di oggi è una parola abusata, una parola che non risponde secondo me dei desideri più intimi e più profondi dell'uomo. Quindi abbiamo bisogno anche di una nuova parola, una parola più vicina ai bisogni delle persone. Sicuramente in questo periodo storico nella nostra città, tu, che siamo quasi coetanei, vivi fuori termini. Però sei molto vicino alla realtà termitana, civile termitana. E proprio in questo periodo di parole se ne dicono tante. Siamo vicini alle elezioni, alle amministrative, in cui tanto strascico hanno lasciato le parole della vecchia amministrazione e tante nuove parole vengono dette dai candidati oggi. Parole a volte anche con toni aspri, accesi. Cosa possiamo raccomandare, cosa possiamo chiedere alla politica? Quali parole possono essere usate oggi in politica? Ma guarda, io sono molto attento alle vicende di Termini perché Termini è la mia città, è la città dove sono nato. E non credo che un uomo possa fare quello che ho fatto io, cioè attraversare lo spazio e il tempo, l'Europa, senza un punto di riferimento. Un luogo che ti rappresenta. Per me Termini rappresenta le mie radici e quindi io ho un interesse particolare per lei. E poi anche la comunità dei miei affetti principali, dove ci abita la mia famiglia, i miei amici. Quindi per me Termini è un orizzonte di riferimento fondamentale. Ho a cuore che sia una città gestita in maniera civile, dove si possa vivere bene, dove si possa amare, lavorare, svolgere una vita dignitosa. Ho scritto, prima di queste elezioni, analizzando anche un film che è stato svolto in questa città, che il futuro sindaco di questa città avrà non pochi impegni. E soprattutto un impegno sarà quello di non lasciare questo sindaco da solo, perché io credo che indipendentemente dalla qualità dei candidati, poi quello che fa la differenza è se attorno a un sindaco c'è una comunità, oppure è un sindaco lasciato a se stesso. Forse più che criticare il singolo, noi dovremmo fare un'autocritica dell'intera comunità. Siamo stati presenti, abbiamo partecipato tutti alla vita politica, siamo stati attivi nel sociale, oppure l'abbiamo lasciato un po' a se stesso. Ecco, io credo che nel futuro non può essere questo. Chiunque si candidi, chiunque vinca, chiunque abbia il ruolo di responsabilità, la comunità funziona se c'è una comunità di persone che si occupa, che si prende cura della società. Altrimenti credo che demandare, affidare al politico di turno il nostro destino sia un'esperienza fallimentare. Noi siamo chiamati a un impegno, ognuno nella propria professione, nella propria attività, dal padre di famiglia al medico, all'operaio, all'agricoltore. Ognuno è chiamato a una responsabilità e ognuno ha un ruolo politico. Non è che la politica è fatta solo dall'istituzione, la politica è la scelta quotidiana di ogni cosa che noi facciamo. Purtroppo la mia città è una città in cui il fatto che la comunità si sia disamorata dalla propria città è un fatto, secondo me, abbastanza evidente. Un po' per la delusione, un po' per la condizione economica, però adesso non possiamo più farlo. Cioè il futuro è un futuro di comunità o non c'è? Io sono molto pessimista sotto questo punto di vista, non ho fiducia nella semplice elezione di un sindaco. C'è da costruire un percorso comunitario, come è stato fatto in altri luoghi dove questa chiarezza è venuta con più... molto più chiaramente nelle coscienze delle persone e hanno cominciato a dire sì, vabbè, al di là della politica, noi dobbiamo comunque impegnarci, dobbiamo fare, dobbiamo prenderci cura della nostra città. Se volessimo trovare la parola nuova o rinnovata che faccia guardare al futuro della nostra città, potrebbe essere dunque cooperazione, collaborazione? Sicuramente la parola del futuro è una parola antica, perché ciò che ci proiettano il futuro viene dal passato. E una di queste è cooperazione, fraternità, condivisione, ma non parole per la campagna elettorale, parole di tutti i giorni. O questo diventa una prassi quotidiana, un modo di vivere, di relazionarsi, di intessere le relazioni, altrimenti non credo ci sarà un futuro se non questo. In queste elezioni abbiamo sentito la tua vicinanza a un candidato sindaco, Vincenzo Fasone. Il tuo impegno politico per la candidatura di Vincenzo sarà ancora più forte nei prossimi mesi, insomma che faranno forte la sua campagna elettorale, o addirittura sarai presente per mantenere fede a questa parola, appunto, alla collaborazione, alla cooperazione, anche successivamente? Sì, io appoggio Vincenzo Fasone perché mi pare che sia stato in grado di pensare un progetto comunitario. E questo mi sembra una lungimiranza, perché coinvolgere la società civile, le associazioni, chi si occupa di volontariato, è veramente un presupposto importante. Poi mi lega a lui una vicinanza di amicizia, siamo stati compagni di scuola, lo conosco bene, è un ragazzo che viene da una famiglia umile, che con i suoi sforzi è riuscito a crescere, a diventare un padre di famiglia, un professore universitario, quindi c'è una stima. Ma questo non significa che io non abbia la stessa stima per gli altri candidati, o che penso che siano inferiori o non capaci, anzi, penso che in questo momento Termini sia impegnata in un tentativo di andare avanti. Per quanto mi riguarda farò di tutto quello che è possibile per essere vicino a questa città, come ho cercato di fare e come cercherò di fare sempre e comunque. Perché, ripeto, al di là dell'esilio che ognuno di noi vive per motivi più o meno differenti, c'è un discorso di appartenenza che trascende la posizione geografica, e che è il luogo che ti ha dato la luce e che appunto ti ha affidato quella parola originale, per cui poi è compito tuo riuscire a declinarla. Io, purtroppo, nonostante abbia vissuto in molti paesi europei, ho sempre mantenuto il mio accento e la mia appartenenza culturale, senza vergognarmi in nessun modo di questo modo di essere e di appartenere, e credo che sia una bella cosa. Quindi farò di tutto per cercare di essere presente e indirizzare i miei cittadini verso questa candidatura. C'è una parola che io uso spesso nel senso però più positivo della parola, che è l'orgoglio, risvegliare l'orgoglio di un'appartenenza. Forse questa è un'altra parola che potrebbe essere fare al caso, diciamo, di questa nuova visione delle parole, dell'impiego delle parole del futuro. Sì, l'orgoglio è una parola che purtroppo nel 1900 è stata declinata in maniera un po' pericolosa, nel senso che più che orgoglio io parlerei di fierezza, che è un po' diverso. La fierezza è la consapevolezza che non veniamo dal nulla e non andiamo verso il nulla, ma siamo figli di un passato che ci appartiene e di un futuro che ci tocca costruire, perché forse una delle novità di questo tempo è che ognuno di noi, avendo forse meno fiducia nella politica, nella cultura, nella religione, è chiamato in prima persona a dare delle risposte in termini proprio personali. E questo è molto più difficile, perché mentre prima si demandava ed era possibile affidare ad altri, oggi ognuno di noi è chiamato a dare delle risposte. Quindi il futuro sicuramente è un futuro impegnativo, più impegnativo per tutti. Però non a livello di come l'abbiamo conosciuto nel passato. Il futuro è tutto da costruire. Grazie a Pietro Pilo, desiderio di volti, scritti d'occasione. Grazie a Pietro Pilo, desiderio di volti, scritti d'occasione.